Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecomo Piemonte. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Marco Bongi, il presidente dell'Associazione Pro-Retinopatici e Ipovedenti. Oggi ci proponiamo di trattare un argomento molto importante, l'inserimento lavorativo delle persone non vedenti e ipovedenti. Si tratta di un ambito di interesse che ha sempre caratterizzato la nostra categoria. In passato i non vedenti svolgevano attività di artigianato nell'impagliatura delle sedie, nella rilegatura, nell'acconfezionamento delle spazzole, eccetera. Poi, a partire dal XX secolo, si sono sviluppate nuove professionalità, tutelate con leggi specifici. Mi riferisco specialmente al centralinismo telefonico, che è disciplinato ancora oggi dalla legge 113 del 1985, la fisioterapia, che è disciplinata dalla legge numero 403 del 1971. La tecnologia, che però molto spesso ci è utile in tanti momenti della vita quotidiana, per quanto riguarda l'inserimento lavorativo, si sta rivelando un ostacolo. Perché oggi non esistono quasi più i centralini telefonici. Lo sviluppo dei computer, i risponditori automatici, la possibilità di avere linee passanti, rendono quasi sempre superflua questa figura professionale. Per quanto riguarda invece la fisioterapia, questa disciplina è diventata da qualche anno una specializzazione di tipo universitario. E per poter accedere a questi corsi è necessario superare degli test d'ingresso, che molto spesso richiedono necessariamente l'uso della vista. Ci sono anche poi insegnanti non vedenti, che sono tutelati dalla legge 270 del 1982. Però oggi urge un interesse più approfondito. Bisogna fare uno sforzo per cercare nuovi sbocchi professionali per queste persone, che vogliono e richiedono giustamente di poter essere attive nella vita della cittadinanza attiva. Quindi la nostra associazione sta cercando di sviluppare dei tavoli di concertazione per poter individuare delle mansioni, individuare delle funzioni che siano accessibili. Attraverso l'accessibilità dei mezzi informatici, le sintesi vocali ed altri strumenti che la moderna tecnologia ci mette a disposizione, sarebbe possibile inserire i non vedenti nell'attività di tipo della programmazione dei computer, delle app, oppure nei call center, oppure in altre situazioni che sicuramente possono essere accessibili. Però se non esiste una legislazione mirata in questo senso, diventa tutto molto difficile, tutto molto complicato. Per questo la nostra associazione si mette a disposizione di tutti coloro che vivono nella vita quotidiana queste problematiche, affinché possano essere affrontate e sviscerate nel modo più corretto. Un caro saluto a tutti. Ben trovati, siamo con Roberto Sardo, presidente regionale Anmil del Piemonte, per parlare delle attività svolte dalla Fondazione Anmil Sosteniamoli Subito, uno degli enti della rete Anmil, nato nel 2005 con lo scopo di promuovere azioni assistenziali nei confronti di vittime di infortuni del lavoro, delle vedove e degli orfani. Presidente, come si muove la Fondazione per realizzare i suoi obiettivi? Allora, salve a tutti. Allora, la Fondazione Sosteniamoli Subito è attiva su Più Fronti per continuare ogni giorno ad essere un punto di riferimento per le vittime di infortuni sul lavoro e dei loro familiari. Attraverso campagne ed accordi mirati promuoviamo studi, ricerche e soluzioni assistenziali rivolte principalmente ai superstiti, come ad esempio il recente protocollo di intesa con il CNOP, che è il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, che è volto all'accesso agevolato al sostegno psicologico per chi abbia subito tragici eventi sul lavoro. Un'ulteriore attività è la concessione di borse di studio per i figli di invalidi e orfani del lavoro e per noi tutto questo è un grande orgoglio e essere anche di riferimento per chi ha subito un dramma così grande. Ha accennato al protocollo di intesa con l'Ordine degli Psicologi. Indubbiamente un infortunio o, peggio, una morte sul lavoro hanno un forte impatto emotivo su chi li subisce. In cosa consiste il vostro supporto e come si concretizza questo importantissimo accordo? Quello del sostegno psicologico è uno dei temi sui quali la Fondazione Amnil ha prestato maggiore attenzione negli anni. Nella convinzione comunque che si tratti di un momento fondamentale per chi ha subito un infortunio e sia anche per le loro famiglie. Come già detto precedentemente, lo scorso anno siamo arrivati alla sottoscrizione di questo importante protocollo di intesa con il CNOP che consentirà di offrire a tutti i soci Amnil, ai loro familiari, un sostegno psicologico a costi ridotti. Sarà individuato preferibilmente un professionista del territorio, del richiedente in modo di agevolare gli utenti che possono avere problemi motori, di autonomia negli spostamenti oppure per difficoltà di salute. La Fondazione Amnil promuove anche azioni fortemente simboliche per la sensibilizzazione sul tema della prevenzione degli infortuni, come ad esempio le panchine commemorative. Ce ne può parlare? Da ormai alcuni anni Fondazione Sosteniamoli Subito è impegnata nell'installazione in ogni città del nostro paese di panchine dedicate alle vittime del lavoro che si fondono con il paesaggio urbano e che invitano la cittadinanza a fermarsi un momento per riflettere sul dramma delle morti sui luoghi di lavoro. E ciò è possibile attraverso una targa esplicativa che verrà posta accanto e con frasi sulla sicurezza che saranno poste sulla panchina stessa. Ad oggi sono circa una ventina le panchine presenti in tutta Italia. E' sicuramente un'iniziativa a cui teniamo molto e ci auguriamo di poter portare in più comuni possibile tutto ciò per contribuire a sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica su questo tragico fenomeno degli incidenti sul lavoro e delle morti bianche. Per contattare la Fondazione e richiedere i nostri servizi e diventare magari volontario vi invitiamo a formare il numero verde gratuito 800 180 943 inviare una mail a segreteria fondazione chiocciolaanmil.it oppure visitare il sito www.anmil.it o ancora la pagina Facebook Sosteniamoli Subito Fondazione Sosteniamoli Subito Con questo è tutto, vi ringraziamo dell'attenzione e a presto. Ben trovati, sono Luisa Roccia, Presidente del Collegio Geometri di Torino e Provincia un collegio che ha iscritti al proprio albo 3200 liberi professionisti che in più ambiti professionali esercitano delle attività. Abbiamo la sede a Torino in Via Toselli 1 e oggi parliamo di edilizia. Per questo vi passo la parola al geometra consigliere Fabrizio Albano. Ben trovati, mi chiamo Fabrizio Albano sono un membro del consiglio del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e libero professionista in un paese della Valsusa. Sono qui oggi per parlare del ruolo del geometra in ambito edilizio. Prima una considerazione statistica che mi riempie di orgoglio. Il geometra è la figura professionale alla quale le famiglie italiane si rivolgono più volentieri. questo per il rapporto di fiducia e di familiarità che nel corso degli anni abbiamo costruito. Ma perché e quando è necessario rivolgersi a un geometra in ambito edilizio? Come sappiamo per qualunque intervento edilizio che ceda la manutenzione ordinaria fino alla nuova costruzione è necessario presentare una pratica edilizia e di questo si occupa il geometra presentando un elaborato grafico sotto forma di disegno che rappresenta lo stato attuale e lo stato postopera una relazione dove vengono asseverate le conformità del progetto rispetto a tutta la normativa edilizia e una serie di altri documenti tecnici non meno importanti. Al termine di una pratica edilizia è importante ricordare che spesso bisogna aggiornare le planimetrie catastali. Il geometra assolve quindi una doppia funzione. La prima è quella di ottenere il permesso edilizio e fare in modo controllando in cantiere che l'impresa esegue i lavori secondo la perfetta regola d'arte e conformemente a quanto indicato nel progetto. E poi ci segue lungo tutto il percorso complesso della normativa edilizia aiutandoci a scegliere per il meglio con un occhio di riguardo anche ai possibili benefici fiscali grazie alla competenza e alla professionalità del geometra le famiglie possono vedere realizzati i propri progetti abitativi con sicurezza e semplicità. Non mi resta che ricordarvi che per qualunque informazione ulteriore potrete rivolgervi ai collegi della provincia di vostra appartenenza un coro saluto e grazie dell'attenzione. Nel nostro paese si sta consumando una strage spaventosa ma di cui non si parla quasi mai. Da un capo all'altro della penisola va in scena una mattanza che le vittime non possono denunciare. Giorno dopo giorno sono sempre di più gli animali uccisi, feriti, maltrattati nei modi più vari. Un orrore assoluto, inflitto dalla mano dell'uomo a danno di creature innocenti e indifese. La violenza contro gli animali in Italia è una piaga senza fine senza contare il problema dell'abbandono che coinvolge ogni anno 80.000 gatti e 50.000 cani più dell'80% dei quali rischia di morire in incidenti, distenti o a causa di maltrattamenti. Oggi non è più possibile fare finta di niente. Violenze, maltrattamenti e abbandoni sono reati gravi che vanno combattuti e denunciati senza tregua. La legge prevede pene severe in caso di Abbandono, arresto fino a un anno o ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Sevizie, arresto da 3 a 18 mesi o multa da 5.000 a 30.000 euro. Uccisione di animali, reclusione da 4 mesi a 2 anni. In pochi conoscono queste norme, che raramente vengono fatte rispettare, ma adesso è ora di cambiare le cose. Aiutaci a tutelare i diritti dei nostri amici a quattro zampe. Segnala i casi di violenza o abbandono nei confronti di cani, gatti o altri animali di cui sei testimone. Invia foto, video e altri elementi utili a chiarire la dinamica dei fatti e contribuisci a portare questi reati alla luce del sole. Per segnalare abusi o violenze sugli animali, contattaci al numero WhatsApp 06 9555 0273 Ben trovati a tutti. Oggi parleremo di un aspetto particolare di quelle che sono le malattie reumatiche, che purtroppo non vengono mai da sole. Infatti, se andiamo a vedere gli studi scientifici pubblicati, che gli ultimi sono molto recenti, sono addirittura dell'aprile di quest'anno, il 53% delle persone che hanno una malattia reumatica purtroppo è affetta anche da almeno un'altra patologia. E il dramma, se vogliamo chiamarlo così, ma è un dramma effettivo, è che a distanza di 5 anni, soltanto il 28% di queste persone conserva la malattia concomitante, la cosiddetta comorbidità, mentre invece tante altre, troppe, ne sviluppano addirittura 2, 3 o addirittura 4 in più. Quindi quello che è importante che passi è che non dobbiamo assolutamente trascurare nessuno dei sintomi delle malattie reumatiche, quindi il dolore, il fatto di avere dei gonfiori improvvisi delle articolazioni, il fatto di avere una rigidità di movimento al mattino appena svegli che dura 10 o più minuti, perché prima abbiamo una diagnosi di malattia reumatica e vi ricordo che le malattie reumatiche sono oltre 100 e prima riusciamo ad evitare che si sviluppino poi anche le malattie che normalmente si accompagnano alle malattie reumatiche. Quindi diagnosi precoce come prevenzione, e questo è un discorso che va anche fatto, di quello che è lo sviluppo delle comorbidità e quindi di un impegno dal punto di vista non solo fisico ma anche psicologico e di vita sociale che è molto importante. Malattie reumatiche purtroppo impediscono tantissimi aspetti della vita, abbiamo già detto in altre occasioni, ma conviene sempre ripeterlo che non sono soltanto delle malattie che colpiscono le articolazioni ma purtroppo colpiscono anche il sistema cardiovascolare, colpiscono il sistema respiratorio, colpiscono il sistema endocrino, quindi c'è un aumento di predisposizione per il diabete e l'obesità. Quindi sono patologie che vanno considerate all'interno di un quadro molto importante, molto ampio e che hanno dei riflessi incredibili anche sulla vita sociale e sulla vita lavorativa delle persone che ne sono affette. Voi pensate una signora che lavora in una vita di pulizie e che improvvisamente sviluppi una malattia reumatica. Purtroppo per lei dovrà mascherare in parte anche questa sua patologia perché sennò chiaramente nessuno le consentirà più di svolgere la propria mansione e verrà spostata ad altri compiti. Quindi è importantissimo che anche noi ci mettiamo qualcosa di nostro, che non ci trascuriamo, che abbiamo un pochettino più di attenzione per noi stessi nel momento in cui sviluppiamo una malattia. Una sintomatologia che può predisporre, può indicarci la possibilità di una malattia reumatica e soprattutto è importante che però anche se abbiamo difficoltà di movimento, anche se abbiamo male quando ci muoviamo, non smettiamo mai di muoverci. Meno attività fisica faremo e più avremo difficoltà a muoverci in futuro. Per cui è assolutamente importantissimo che ciascuno di noi ci metta del suo nel fare in modo che le terapie a cui saremo sottoposti funzionano al meglio. Come sempre per altre informazioni, per ulteriori approfondimenti, vi invito ad andare a consultare il nostro sito che è www.amartiemonte.org e vi do appuntamento alla prossima volta. Grazie. Buongiorno, sono l'Avvocato Silvia Greco, consulente legale di Anfas Torino e Anfas Piemonte. L'Anfas è la più grande associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo. Dall'anno della sua fondazione, il 1958, l'Anfas si occupa di proteggere, promuovere e rendere pienamente esigibili i diritti umani, civili, economici e sociali delle persone con disabilità e dei loro familiari. Presso la sede di Anfas Torino e Anfas Piemonte, nel 2023, è stato fondato uno sportello denominato Sportello Antenne Antidiscriminazioni Attive. Questo sportello nasce da un progetto promosso da Anfas nazionale e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di fondare un'agenzia nazionale antidiscriminazioni alla quale fanno capo gli sportelli presenti nelle Anfas locali che sono presenti su tutto il territorio italiano. La persona con disabilità o il familiare della persona con disabilità che ha ricevuto, ha subito una discriminazione può rivolgersi allo sportello Antenne Antidiscriminazioni Attive di Anfas Torino e Anfas Piemonte e trovare supporto e assistenza da parte dello staff dello sportello. All'interno dello sportello è presente un servizio di assistenza legale quindi la persona che ha subito una discriminazione a causa della sua disabilità da parte di una persona fisica di una persona giuridica o di un ente pubblico può rivolgersi allo sportello ed ottenere una consulenza legale gratuita per valutare la strada migliore da interprendere al fine di ottenere la cessazione della condotta discriminatoria l'eliminazione degli effetti della condotta discriminatoria ed eventualmente anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla persona con disabilità discriminata. La legge 67 del 2006 che ha disciplinato il diritto antidiscriminatorio e ha introdotto nell'ordinamento un procedimento giudiziario ad hoc avente ad oggetto l'accertamento delle condotte discriminatorie e la condanna degli autori delle discriminazioni ha chiarito molto bene il concetto di discriminazione dividendolo in tre diverse declinazioni. Abbiamo la discriminazione diretta quando una persona con disabilità è trattata meno favorevolmente in ragione della sua disabilità rispetto alle persone prive di disabilità in una situazione identica oppure analoga. Abbiamo una discriminazione indiretta quando vi è un comportamento una prassi, un provvedimento o un atto che sono di per sé neutri ma producono l'effetto di creare uno svantaggio nei confronti della persona con disabilità rispetto a tutti gli altri cittadini. Sia poi la molestia che è un comportamento indesiderato che lede, che viola, la libertà e la dignità della persona con disabilità. Un altro elemento fondamentale che viene introdotto dalla legge 67 del 2006 è l'elenco, la creazione di un elenco di un registro di persone giuridiche quindi associazioni legittimate ad agire tra cui è presente anche Anfastorino. L'associazione legittimata ad agire è un'associazione che può rappresentare il cittadino in giudizio e lo può fare in due modi quindi attraverso il ricorrere accanto al cittadino di fronte all'autorità giudiziaria oppure al posto del cittadino quindi il nome per conto del cittadino che quindi non sarà costretto ad agire in giudizio personalmente. Dopo avervi illustrato le questioni salienti che riguardano il diritto antidiscriminatorio e l'attività che svolge lo sportello Antenne Antidiscriminazione Attive di Anfastorino e Anfas Piemonte concludo invitando le persone con disabilità o i familiari delle persone con disabilità che hanno subito una discriminazione a rivolgersi allo sportello per trovare supporto ed accoglienza da parte dello staff e l'assistenza legale da parte del servizio legale. Grazie. I programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione. Grazie. 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 Grazie.